Noi siamo partiti molto bene nel primo tempo, siamo stati alti, abbiamo credito alto come avevamo preparato con gli interni alti di centrocampo, con le punte e gli esterni sempre pronti a ripartire e a cercare di andare a far gol. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto in qualche altra circostanza l'opportunità di lavorare meglio qualche altro pallone per andare in profondità e purtroppo abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio. Nella seconda parte della gara purtroppo abbiamo perso qualche pallone di troppo davanti in uscita con i nostri attaccanti, nel momento in cui andavamo a verticalizzare la palla tornava subito dietro e quindi è chiaro che la squadra non riusciva poi ad accompagnare la manovra e a fraseggiare, a palleggiare in velocità e con efficacia quello che ci è mancato rispetto al primo tempo. Bravo il Torino ma nello stesso tempo anche noi qualche pallone lavorato meglio e con più abilità davanti avrebbe fatto sì che potessimo magari costruire qualche ripartenza migliore e qualche situazione migliore in avanti. Quelle volte che ci siamo riusciti e l'abbiamo fatto siamo andati vicino all'area di rigore ma siamo arrivati anche con il 3 contro 3, volte con il 3 contro 2 ma abbiamo sbagliato poi l'ultimo passaggio. Ma questo è figlio anche della giovane età dei nostri attaccanti abbiamo due ventenni davanti quindi ci può stare il loro processo di crescita continua di lavoro e sarà obiettivo di lavoro e di continui miglioramenti. Però bene per il risultato, per la prestazione, siamo venuti qui con mentalità giusta, avevamo due assenze importanti sul piano come Barreto e Vasquez che insomma non sono sicuramente due giocatori per noi, per quello che è la nostra squadra due giocatori qualunque ma il Ciocev che è un ragazzo di 20 anni anche lui e Belotti hanno fatto la loro partita con impegno e partecipazione quindi continuiamo sul nostro lavoro, sul nostro percorso di crescita sapendo che dobbiamo fare affidamento sull'organizzazione di gioco, una mentalità sempre più positiva. Il nostro lavoro è quello, quello di far crescere i nostri ragazzi, i nostri giovani, ne abbiamo tanti in rosa. Paolo è uno di questi che in un anno di lavoro è cresciuto moltissimo sul piano della forza, della tenuta, dell'attacco della profondità, dello smarcamento. Ci lavoriamo molto sulla tattica individuale durante la settimana e lui ha ancora margini di crescita e di miglioramento sotto questo aspetto perché arriva spesso a ridosso dell'area di rigore e magari a volte può ancora far meglio perché nel momento in cui arriva lì sapere mirare gli angoli in questa categoria diventa fondamentale e non calciare in porta quindi continueremo a lavorarci sopra ma lui già dimostra di avere già peraltro delle qualità molto importanti quindi sono felici per lui e ce lo vogliamo tenere stretto.